Da quando Rosa Perrotta ha iniziato il suo percorso nel programma Uomini e Donne si è ritrovata dover affrontare una serie di critiche, sia sulla sua vita privata che su quella professionale. La tronista è stata accusata di essere già fidanzata accusa prontamente smentita poi, Gianni Sperti ha rimarcato il fatto che avesse partecipato a un videoclip musicale in cui compariva anche Fabrizio Corona. Infine, diversi internauti le rimproverano quotidianamente di essere, a loro dire, troppo rifatta. In queste ore, Donato Perrotta e fratello della tronista è intervenuto su Instagram in difesa della sorella. Ecco quanto ha scritto Chi sa cantare, canta. Chi sa ballare, balla. Chi sa recitare, recita. Chi sa elemosinare tre secondi di fama tramite altri, ahimè fai morto di fama. Ah, il prossimo articolo riguarderà il panettiere sotto casa, che trova poco corretto e quindi si sente di dire la sua, sui panini che Rosa ha scelto di comprare l'altro giorno. Correte a vedere l'intervista. Sì, scorretta, ipocrita e falsa preferire la farina integrale. Noi ci compiacciamo e vi ascoltiamo tutti tranquilli. Ebbene sì, la vostra tristezza a noi gente seria, ci fa ridere. Quindi scusateci se non ce la prendiamo. Quindi ha concluso. P.S. Se vuoi dire anche tu la tua su Rosa fai un video, può essere che qualche sfigato ti guardi. Il tuo parere e la tua fantasia per noi sono importanti. Ci teniamo. Che brutte persone meno droga più scuola. Morti di fama poracce gente inutile date un senso alla vostra vita su squallore. Chi se ne frega. Che brutti eliste. Si le città. Che brutti.